Buongiorno, ben trovati all'appuntamento del mattino con le notizie dal web della città, vediamo subito che cosa ci dicono le notizie di viabilità, vi segnaliamo che alle ore 13.30 è possibile un presidio di fronte al Palazzo di Giustizia di Corso Vittorio Emanuele e 130 potrebbero esserci dei problemi di scorrimento delle automobili, vediamo anche subito i controlli di velocità che oggi sono su Corso Giugno Cesare, Corso Grosseto, Corso Peschiera, Unità d'Italia e le vie Traves e Druento. Passiamo alle previsioni del tempo, cielo sereno quest'oggi durante la mattinata con foschie sulle pianure, dal pomeriggio invece addensiamenti sui rilievi appenninici e formazione di nebbie anche fitte in pianura, un transito di velature dovrebbe passare durante la notte, precipitazioni assenti, temperature tra i meno 3 delle minime e i meno 8 delle massime, minime che però sono già state superate oggi perché in questo momento a Torino abbiamo 3,9 gradi. Passiamo all'ultimo numero di Torino Click, come sempre scaricabile in pdf dall'home page della città, parliamo di alberi malati, 80 alberi saranno abbattuti su Lungopo Antonelli e Astupidigi, gli abbattimenti si sono purtroppo resi necessari in quanto gli alberi manifestano problemi statici che potrebbero mettere a rischio l'incolumità pubblica. Un'altra notizia è quella sull'imposta di soggiorno, via libera dalla Giunta ad un provvedimento che istituisce l'imposta di soggiorno e con un regolamento che definisce criteri di applicazione e tariffe che passeranno nelle prossime settimane all'esame del Consiglio Comunale per la definitiva approvazione. Andiamo sull'home page della città, ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi, finisce oggi il blocco temporaneo di tutte le attività catastali che era stato istituito per alcuni aggiornamenti informatici programmati presso il Centro di Elaborazione dei Dati dell'Anagrafe e da quest'oggi, dalle 8 di domattina, la ripresa con le webcam disseminate per la città, il Consorzio 5T ci mostra Corso Muccalieri, Angolo Ponte Isabella, in questo momento traffico quasi assente, con pochissime auto in transito, continuiamo su Piazza Derna direzione Corso Giugno Cesare Sud, anche qui il traffico in questo momento sembra particolarmente tranquillo, passiamo su Arrondò della Forca direzione Corso Regina Margherita Est, come sempre in questa zona le macchine sono un pochino più numerose, finiamo su Corso Turati, Angolo Corso Sommelier, direzione Sud, anche qui traffico presente ma non particolarmente problematico. Per quest'oggi è tutto, ringrazio Paolo Amosso per la messa in onda, ci vediamo oggi pomeriggio con l'appuntamento culturale per le attività della serata, vi diamo appuntamento con l'edizione del mattino, domani intorno alle 9.30, 10 circa. Vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti.